Ma io il tempo lo misuro non in ore, lo misuro in cose che posso fare, lo misuro con il mio metro, che è l'amore. Lui è Amedeo Cardeti, è un ospite della casa di Anna RSA che si trova a vice omaggio nel comune di Civitella in Valdichiana. Nel donare la sua scultura, quella che adesso è casa sua, ci racconta di un clima d'amore che ogni giorno circonda lui e tutti gli ospiti, come confermano le parole, anche di questa figlia che ha da poco perso sua madre. Anche ai familiari, come ho avuto modo di dire, gli dico che devono stare tranquilli perché qui sono proprio in buone mani, sono trattati bene, ma sono loro che ci stanno proprio volentieri. Oggi però è la sua giornata, la giornata in cui Amedeo dona la sua scultura a casa di Anna, 52 gli animali che Amedeo ha scolpito in questo legno di radica. È di noce, una radica di noce che io ho trovato qui a vice omaggio, perché avevo una casa qui a vice omaggio. Mi sono sentito dire, portami fuori, fammi rivedere il sole da tutti questi animali. Ed io piano piano ho cercato di portarli in vita. Attraverso questa opera d'arte Amedeo ci dona una parte di se stesso, a conferma del particolare legame di affetto e di fiducia che si è creato in questi mesi di convivenza. Sono proprio questi legami profondi, questi gesti che danno senso, forza e vita alla casa di Anna. Grazie.